Siamo in diretta dal Festival del Sole di Riccione e questa è l'area dei giochi allestita dalla WISP. Vediamo all'opera Erasmo Le Signoli insieme a un gruppo di ragazzi che tra un po' ragazzi e ragazze si esibiranno nell'arena del Festival del Sole. Insieme a lui ci sono i figli di Odone Giovanetti, dirigente di ginnastica e di giochi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In diretta dal Festival del Sole. Questa è l'area giochi allestita dalla WISP in una delle sei arene del Festival del Sole, l'arena Giardini. Siamo a due passi dalla stazione. Termina qui il nostro collegamento in diretta. Abbiamo approfittato del Sole in questo momento. La bioggia ha dato un po' di spazio al bel tempo e vi abbiamo illustrato questa attività. Rimanete con noi per ulteriori finestre.